Buongiorno. Ho ricevuto una chiamata ieri sera. Mi vogliono di nuovo nel mondo del lavoro. Quindi ti sei pettinata? Ma se lo faccio sempre. La mia vita è un disastro. Mio marito mi ha cacciata di casa tempo fa. Mia figlia mi odia. Ciao! Che succede? Tu! Che cosa ho fatto? Come ho fatto ad allontanarmi dalla persona che volevo diventare. Se potessi parlare con la me stessa ventenne, che cosa le direi? Smettila di preoccuparti di essere grassa. Che importa? Smettila di fisserti il naso. Hai un naso perfetto. Non dare per scontato a tua madre. Non ci sarà per sempre. Claire Marie Pierce è una pluripremiata scrittrice di saggista per laurearsi con il massimo dei voti. Fatti vedere, Claire! Tu sei una delle migliori scrittrici che conosca. Le rubriche di consigli non passano mai di moda, ma... C'era a sinistra sua... E dovresti essere tu a scrivere. Non sono nella posizione di dare consigli. Se potessi parlare con la me stessa ventenne... Che cosa le direi? Un giorno ripenserai al Natale in cui tua madre ti aveva regalato un giacone di allo serbe. Non lamentarti dicendo che è troppo volumoso. Perché tua madre morirà in primavera. E quel giacone sarà l'ultimo regalo che ti avrà fatto. Vorrei che non fossi mia madre. Sai che potrai morire domani. E se morissi non potresti mai perdonarti, perché sarebbe l'ultima cosa che avresti deciso di dirgli. Ma se non sia che potrebbe morire domani, potrei farlo anch'io. È davvero orribile quello che hai detto. Voglio soltanto il meglio per te. Ma non otterrai ciò che meriti se non lo desideri tu stessa. Cosa vuol dire guarire? Guardare avanti? Lasciarsi il passato alle spalle? Regaloanzoli No No Leave the light on No 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 Leave the light on No 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 Grazie a tutti